Ciao a tutti, Stefano Gian Brastiani, un nome d'arte, il cane corto, in casa, si, dai a me, ho fatto un quadro, sono tornato a casa in accappatoio da mutande, vediamo un canzone di Ba'o' Madre, ho fatto ancora questa, mia madre è andato a me, a Cibrizzi, il gruppo, rock'n'roll, grandi uomini, più o meno pop.